Cara Lega Ambiente, compagna di tante battaglie, grazie di essere a Bari, in Puglia a svolgere il tuo congresso nazionale e scusami se non ci posso essere perché sono in queste ore a Palazzo Chigi per il primo incontro con il Premier Mario Monti. E grazie per il lavoro che svolgi sui sentieri di una sostenibilità ambientale che non deve mai diventare fondamentalismo ideologico, integralismo politico, dogmatismo scientifico. Noi in Puglia abbiamo vissuto esperienze straordinarie che difficilmente riusciamo a raccontare nella loro semplice verità. Qualche giorno fa Arpa Puglia ha certificato che l'ultimo monitoraggio sui cammini dell'Ilva dice che siamo a 0,2 nanogrammi per metro cubo di diossine e di furani. 0,2. Partivamo da dati stellari, inquietanti, 8, 9, 10 nanogrammi per metro cubo. Abbiamo vissuto negli scorsi mesi una polemica incandescente perché eravamo a 0,7, comunque dati sotto un nanogrammo per metro cubo. Abbiamo realizzato questa sfida così incredibile, così controcorrente nel pieno della crisi economica internazionale e abbiamo costretto i grandi gruppi industriali qui in Puglia a fare i conti concretamente con le questioni della tutela dell'ecosfera, della difesa dell'ambiente. In questo momento, sempre nella città di Taranto, stiamo trovando un punto di compromesso con l'Eni affinché si possa effettivamente convertire una centrale altamente inquinante quale quella elettrica a olio combustibile e contemporaneamente, mentre abbattiamo completamente le emissioni di inquinanti così lesivi della salute dei cittadini, contemporaneamente teniamo sotto controllo le quote di CO2, i gas climalteranti che precipitano in atmosfera. Abbiamo cercato parlando di acqua, parlando di aria, parlando di terra, parlando di fuoco, di riorganizzare il modello di sviluppo pugliese legandolo al tema della sostenibilità. Abbiamo avuto tanti nemici per strada, non soltanto le grandi lobby economiche e industriali che naturalmente talvolta hanno dovuto subire le nostre decisioni, le nostre leggi innovative, ma hanno combattuto e hanno perso perché abbiamo saputo metterci in relazione con la domanda di salute, con la domanda di ambiente pulito che c'era nel cuore della Puglia. Ma abbiamo incontrato tanti ostacoli, frutto esattamente di una cultura minoritaria e rancorosa, livorosa, che non si arrende neppure di fronte ai dati di realtà. C'è qualcuno che si inviperisce perché a Taranto non si sputa più di ossina in atmosfera. E badate che noi non abbiamo detto che Taranto è bonificata perché dobbiamo fare i conti oggi con cento anni di stratificazione di veleni in mare, in terra, in atmosfera e il ciclo delle bonifiche per Taranto come per Brindisi è davvero il futuro che ci incalza, è la domanda fondamentale a cui dobbiamo saper rispondere come classe dirigente. E tuttavia abbiamo lavorato per tutelare l'ambiente rurale, per tutelare la costa e i pochi corsi d'acqua. Abbiamo lavorato perché la sostenibilità fosse la politica con la quale immaginavamo la riqualificazione dei contesti urbani a partire dalle periferie. abbiamo immaginato l'ambiente non come limite dello sviluppo ma come contenuto dello sviluppo e abbiamo detto a noi stessi che ecologia non è il nome di una festa o di un convegno. Per sei giorni a settimana c'è l'economia e la domenica c'è l'ecologia. Abbiamo detto che per noi ecologia è il nome nuovo dell'economia. È in un paese che precipita nel fango, in un'Italia bucata, violentata e stuprata. La Puglia, con tante criticità e con tante contraddizioni, grazie anche agli stimoli di un ecologismo razionale e politicamente capace di parlare con interlocutori e di allargare la platea degli alleati, in Puglia noi abbiamo cominciato un cammino. Intendiamo continuarlo. Grazie amici e compagni, amiche e compagni di Legambiente.